Scoperta a Pescara all'ingresso del Palazzo del Comune, una lapide intitolata quattro uomini che hanno ricevuto la medaglia d'oro al Valor Militare. Il maresciallo marino di Resta, ucciso a Pescara in un conflitto a fuoco dopo una rapina il 16 settembre 1996. Gabriele D'Annunzio, che ha ricevuto la medaglia per la grandiosa impresa aerea e per il combattimento sul Timavo nel 1917, il Sargente Maggiore Dino Ugo Di Marzio, insegnato dell'onorificenza militare per la spedizione nel cielo di Spagna il 12 dicembre 1936 e il partigiano Renato Berardinucci, che a capo di una banda ha strenuamente lottato contro le truppe tedesche, morto l'11 giugno del 1944. Durante la cerimonia solenne sono state anche consegnate quattro pergamene ai parenti e dagli istituti intitolati agli eroi ai quali il Comune ha dedicato la lapide. Inoltre, al Liceo Classico D'Annunzio e all'Ipsias di Marzio sono stati donati dal sindaco Albore Mascia anche alcuni volumi destinati ad arricchire la biblioteca scolastica.